Come nasce un progetto? Quali sono i passi fissi che percorro ogni volta che intraprendo qualcosa di nuovo? Oggi ti parlo di questo. Sei pronto? Vamonos! Quando ho iniziato la scuola di Falegnameria sei anni fa, la prima cosa che mi hanno cercato di insegnare è la parte di progettazione. Quello di cui voglio parlarti oggi aiutandomi con la lavagna qua dietro è del processo che seguo passo passo ogni volta che intraprendo un nuovo progetto. È un metodo che ho sviluppato in questi 5-6 anni di lavorazione del legno, è una cosa che funziona molto bene nel mio caso, ti racconto come sempre la mia esperienza, non è detto che vada bene per tutti però spero in ogni caso di darti qualche buono spunto. La prima cosa che cerco di capire è la complessità del progetto. Se è una cosa semplice passo a disegnare a matita a grandi linee per capire la forma che dovrà avere, dopodiché passo direttamente alla realizzazione. Questo procedimento lo utilizzo anche per tutti quei progetti dove non mi interessa molto la precisione e l'estetica ma piuttosto l'urgenza della realizzazione. Quindi tolta questa prima parte che riguarda i lavori di facile realizzazione, passiamo a quelli di media e grande complessità. In questo caso un semplice disegno a matita non basta. La maggior parte delle volte lo realizzo comunque per farmi un'idea a grandi linee dell'oggetto che devo realizzare ma la tappa successiva è quella di realizzare un disegno in 3d. Per questa fase utilizzo SketchUp che è il software secondo me più adatto per iniziare con la progettazione 3d. Se sei interessato a sapere come muovere i primi passi all'interno di questo programma ti lascio qui una playlist di tre video che possono darti un'infarinatura generale. Questa fase di disegno 3d è per me fondamentale per decidere alcune cose come ad esempio quale giunzione utilizzare, quali essenze e anche avere un'idea immediata delle proporzioni dell'oggetto. Ad esempio se sto realizzando un tavolino e voglio avere delle gambe affusolate mi dà un'idea a grandi linee di come effettuare i tagli. Quindi è in questa fase che decido le misure dei pezzi da tagliare in maniera molto precisa e tra l'altro posso collegarmi al software di ottimizzazione che vi ho presentato in questo video per calcolare anche quanto materiale mi serve. E' la fase tra l'altro che più di tutte mi aiuta a rivelare le insidie che possono stare all'interno di un progetto alle quali inizialmente non avevo pensato evitando quindi di commettere alcuni errori. Quindi una volta che ho il mio progetto 3d terminato e che mi soddisfa mi pongo una domanda. E' tutto chiaro? Ho esperienza per le giunzioni che mi sono prefissato di realizzare o sono degli incastri che non ho mai fatto? Nel primo caso quindi sono sicuro di poter affrontare il progetto con il bagaglio di conoscenza che ho già e passo quindi immediatamente alla fase di realizzazione. Nel secondo caso invece significa che non ho abbastanza esperienza per affrontare il progetto c'è qualcosa che non mi è chiara piuttosto che passare direttamente alla fase di realizzazione preferisco passare a una fase intermedia e cioè realizzare un prototipo. Questo tra l'altro è il caso di quando ho realizzato uno sgabello in legno, puoi trovare il video qua tra le schede, in quel caso non sapevo se gli incastri che avevo pensato potevano andare bene per la struttura appunto dello sgabello. Tra l'altro non li avevo mai eseguiti e quindi ho preferito realizzare un prototipo in modo da studiarmi bene quali fossero i macchinari e le tecniche più appropriate per realizzare questi incastri e anche se la struttura di per sé poteva andare bene. Dopo la fase di realizzazione del prototipo si torna alla domanda è tutto chiaro? E quindi di nuovo si potrebbe passare alla fase di realizzazione oppure tornare alla fase di prototipo e da qui si può inserire un ciclo fino a che il prototipo mi chiarisce tutti i dubbi che avevo e quindi torno alla fase di realizzazione. Con questo è davvero tutto spero di averti dato qualche spunto interessante per i tuoi progetti questo è il primo video dopo la pausa estiva quindi potresti aver visto qualcosa di nuovo all'interno del lab a partire dall'illuminazione ad esempio la striscia led qua alle mie spalle. Ho davvero tante idee progetti per questa ultima parte dell'anno sto cercando di ottimizzare gli spazi in modo da poter ricavare spazio per inserire altri macchinari che mi servono assolutamente. Se mi hai seguito durante le vacanze sai che sta partendo una collaborazione con altri canali qua su youtube ti consiglio di rimanere sintonizzato attorno alla metà di settembre. Con questo è davvero tutto ti lascio qui un video interessante sulla lavorazione del legno se l'ho ancora fatto iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. In seguito i sogni e hasta luego. con i sogni e i sogni e i sogni e i sogni e i sogni.